Allora, abbiamo già la volta scorsa visto un possibile utilizzo di un dizionario come array associativo, vi ricordate che abbiamo fatto una funzioncina che calcolasse le frequenze di occorrenza di una stringa, di un nome, di un numero, eccetera, eccetera, no? Dove il dizionario effettivamente aveva come chiave una stringa, un nome, nel nostro caso è il nome di un corso di studio e come valore il numero di volte in cui compare, quindi è un mapping, è un'associazione tra una stringa, un nome e un valore e questo valore viene incrementato, l'abbiamo anche chiamato come una batteria di contatori, non ha un certo senso, questo è un modo, qui ci sono un po' di esempi, un altro esempio, sempre l'uso di un dizionario, questa volta c'è un esempio in cui la chiave è un numero e il valore è una stringa, quindi una struttura dati in cui per una serie di studenti data la matricola salvo il nome, quindi la matricola 211003 corrisponde a Paolo Bianchi, la chiave è il numero di matricola e il valore è il nome dello studente. La chiave è un numero, potrebbe sembrare quasi una lista dove l'indice è un numero, io potrei fare una lista lunghissima di 300.000 elementi, la maggior parte di quali sono vuoti e nella posizione 211003 ci metto questa stringa, però sarebbe un po' stupido perché occupa una quantità di memoria incredibile quando poi i dati da memorizzare sono pochi. Quindi io ho qua un indice intero, ma l'indice non corrisponde alla posizione della cella, infatti l'indice lo chiamo chiave e rappresenta la chiave di accesso a un determinato elemento. Quindi di nuovo le chiavi sono stringhe oppure interi, devono essere immutabili e quindi alla fine siamo limitati a numeri, stringhe e tuple. La chiave deve essere un dato immutabile. Quindi possono essere stringhe, possono essere interi e il valore in questo caso è una stringa, ma volendo il valore può essere anche più complicato. Se ho un nome e cognome, tanto vale tenere separati il nome e il cognome. Quindi io posso avere tranquillamente un dizionario la cui chiave è un numero e i cui valori associati a ciascuna chiave sono delle liste, in questo caso di due stringhe. Vorrà dire che in questo dizionario se io scrivo studenti di 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho preso studenti che è il dizionario, ho fatto accesso a un elemento del dizionario e quindi mi ha dato, ho acceduto a questa lista qui. Quindi questa è una lista. Se voglio il nome o il cognome, diciamo, per questo Rossi, posso prendere il secondo elemento di questa lista. Quindi questa prima parentesi quadra è la chiave del dizionario, che sono queste chiavi qua. Poi a questo punto qui il tipo di dato che ho è una lista e come lista ovviamente posso indicizzarla per posizione all'interno della lista, perché in questo caso è una lista. poi questa cosa qui che cos'è a sua volta? A sua volta questa è una stringa. Quindi se mi serve qui posso applicare tutti i metodi delle stringhe o prendere il singolo carattere oppure mettere il maiuscolo o faccio ciò che devo fare. Quindi anche qui l'importante è ad ogni passaggio avere ben chiaro qual è il tipo di dato che avevo, cioè qui avevo un dizionario, gli ho applicato le parentesi quadre facendo un accesso per chiave, trovo una lista, accedo a un elemento della lista oppure qui potrei scrivere apprende, potrei scrivere qualunque funzione o metodo che va bene sulle liste, se accedo ad un elemento ottengo in questo caso una stringa e quindi potrò fare tutte le operazioni che posso fare sulle stringhe. Non si vede dalla sintassi che cosa sta succedendo, sono io che devo sapere ad ogni punto quale tipo di dato ho costruito partendo, analizzando, muovendomi all'interno del tipo di dato precedente, del contenitore precedente. Addirittura io potrei fare ancora un passo avanti, potrei avere un dizionario studenti che sia un dizionario la cui chiave è il numero di matricola e il cui valore, ricordiamo che tra chiave e valore quando crea un dizionario c'è il due punti, non c'è l'uguale, io qua vedete che Mario è lo 0 e Rossi è l'1 ma me lo devo ricordare, allora perché non creare un dizionario in cui dico che Mario è il nome, Rossi è il cognome, creando a sua volta un dizionario la cui chiave è nome e il valore è Mario, virgola chiave, cognome e valore rossi. Quindi posso avere un dizionario in cui i chiavi sono numeri interi, cioè i numeri di matricola e i valori a loro volta sono, può essere qualunque cosa il valore di un dizionario anche un altro dizionario. Questo è l'altro uso di dizionario che vedremo tra un secondo. Questo mi permette di distinguere Mario da Rossi nel senso che anziché ricordarmi ogni volta che se il cognome è nella posizione 0, nella posizione 1 oppure il nome dove si trova, dico questo si chiama nome, questo si chiama cognome con una chiave esplicita. Quindi in questo caso descriverei questa struttura dati dicendo che è un dizionario con chiavi numeri interi che rappresentano le matricole e valori dizionari, dizionari di due elementi le cui chiavi sono string, le quali sono nome e cognome, sempre, e i cui valori di questi valori del secondo dizionario annidato dentro il primo sono effettivamente la stringa del nome e del cognome. La difficoltà della parte finale del corso è questa di imparare a gestire e immaginarci queste strutture dati composte, in cui mettiamo insieme i tre tipi di contenitori che conosciamo. Questo è un altro esempio sempre di un dizionario usato come re associativo, cioè associo a un valore, un altro valore, a una chiave e un altro valore. Qui siamo nel gioco degli scacchi e possiamo dire io nella scacchiera ho tre pezzi, un re, un pedone, una torre e ti dico dove sono. Allora, come posso fare? Beh, potrei farmi una matrice 8x8 di caselline, le caselline sono tutte magari stringa vuota oppure uno spazio e non so, dove voglio mettere il re ci metto la R o cosa del genere, è un modo per aumentare questa informazione, però poi per sapere dove è il re ogni volta mi devo scandire tutta la tabella. Invece qua, e magari in alcuni casi sarebbe più comodo così. Qui si può fare in un modo diverso, ogni pezzo sarà una entry, un item nel mio dizionario, la cui chiave sono le coordinate dove si trova il pezzo e il cui valore è il nome del pezzo. Come chiave qui ho usato delle tuple, non posso usare una lista come chiave, perché la lista non è immutabile, ma poiché la tupla è immutabile la posso usare come chiave. Quindi sto dicendo che alla riga 1 colonna 3 c'è un re, alla riga 2 colonna 2 c'è un pedone, alla riga 8 colonna 8 c'è una torre. Dizionario che rappresenta alcuni pezzi degli scacchi sulla propria scacchiera, la chiave è una tupla, la tupla contiene due numeri interi che sono la riga e la colonna, il valore è una stringa, cioè il nome del pezzo. Stiamo giocando a combinare in modi diversi le cose che già conosciamo. Questo è un altro modo di rappresentare anche qua la stessa cosa, una cosa simile. Io prima mi ero inventato da ignorante delle coordinate messe così, dei nomi dei pezzi messi così, ma poi se puoi vedere ci sono degli standard internazionali sui pezzi che danno alle colonne una lettera dalla A alla H, sulle righe una numero da 1 a 8. Quindi la mia tupla 2 e 2 non è accettabile. Allora le colonne degli scacchi sono ad esempio qua C3 o cose di questo genere. Qualunque scacchista pensa così. Allora per rappresentare questa informazione io la posso rappresentare usando come chiave una tupla sempre, la cui numero di colonna, questa volta ho messo la colonna prima, perché per convenzione si dice B3 non 3B. È una stringa che rappresenta il numero di colonna, questa stringa è necessariamente una lettera minuscola tra A e H e il secondo elemento è un numero intero tra 1 e 8 che rappresenta la riga. Misurata dal basso se sto giocando il bianco, misurata dall'alto se sto giocando il nero. Questi sono i numeri di righe. E quindi adatto, diciamo così, il mio dicionario a poter usare la notazione standard. E così come i pezzi posizionati nelle varie caselle uso delle lettere convenzionali BN bianco e nero, RPT sono re, pedone e torre, questo uso la convenzione italiana, la lettera iniziale del nome del pezzo. Quindi qua c'è una torre nera, un pedone nero, un grai bianco ad esempio, in queste tre posizioni, per dire. Quindi la codifica dell'informazione dipende anche poi magari da come sono presentate le informazioni all'esterno. Me la posso inventare liberamente oppure mi posso adattare a qualche cosa che c'è. Questi sono un po' di esempi appunto di dizionari usati dicendo ho un valore e da questo valore voglio ricavarne un altro. Allora in questo caso, in tutti questi casi vediamo che le chiavi del dizionario sono dei valori che hanno un significato. Mi dicono quali sono le parole, quali sono le matricole, quali sono le caselle occupate. E questo è un modo per usare dizionari. Un altro modo per usare dizionari, quindi la stessa struttura dati con le stesse regole di funzionamento, ma siamo noi che decidiamo di usare in un modo diverso, è usare un dizionario per registrare un record di dati. Noi questo termine record di dati l'abbiamo già usato un pochino quando leggevamo i file strutturati di testo, no? Abbiamo detto ogni riga è un record, fatto di tanti campi. Poi quei campi lì li mettevamo in una lista, facciamo split e i vari campi vanno fino nella posizione 0, 1, 2, 3 della lista. E va bene, io rappresentavo fino ad adesso un record di dati tramite una lista come fatto qua. Un record è nome e cognome, è una lista in cui c'è prima il nome e poi il cognome. Che funziona bene ma ho la difficoltà di ricordarmi o di gestire sempre bene l'ordine degli elementi in quella lista lì. Perché non è una lista normale questa in cui posso aggiungere e togliere elementi. Cioè le liste per rappresentare il nome e cognome delle persone devono assolutamente avere sempre due elementi, se no sto rappresentando i dati storti, sbagliati. Quindi la natura della lista è quella io che posso aggiungere, posso togliere, posso ricercare eccetera. Qui invece la sto bloccando dicendo guarda tu mi servi solo perché ho due dati e li voglio contenere entrambi e allora per loro non ti farò mai un append, non ti farò mai un pop di questi dati, mai un sort per carità, vado a scombinare l'ordine degli elementi nelle colonne. L'alternativa è quella che ho scritto qua sotto in grosso, è quella di usare un dizionario quando ho dei dati strutturati di questo genere, cioè ogni riga ho nome, cognome, luogo di nascita, di nascita, cose di questo genere e sono sempre uguali queste righe, devono essere sempre uguali se no non saprei come gestirle e quindi mi daranno delle liste con gli stessi tipi di elementi, nella posizione 0 ci sarà sempre il nome, nella posizione 3 ci sarà sempre la città e così via. Se non la voglio usare come lista perché poi di nuovo uno dice person di 2 che cos'è? In questo caso è l'anno. posso usare un dizionario in cui le stesse informazioni le metto come valore di un dizionario le cui chiavi non sono più dei dati ma sono il nome del campo, il nome del tipo di dato che sto rappresentando, quindi ho una persona che è rappresentata tramite John Doe, 1971 New York Student, sono esattamente questi qui, solo che anziché in una lista questa informazione qua che mi richiede, che non è leggibile automaticamente perché se io vedo dentro il codice più avanti person di 2, che cos'è? È poco leggibile. Le stesse informazioni, queste che sono qui sono esattamente le stesse dall'altra parte, le memorizzano in un dizionario come valori mentre invece le chiavi sono appunto il nome dei campi, cioè il significato di quel dato lì nome, cognome, data, di nascita, città eccetera, professione. Allora questo è un dizionario un po' strano perché se io avessi poi un person 2 da, quindi la seconda persona che leggo dal file o che devo elaborare, questo rappresenterò anch'essa come un dizionario in cui le chiavi sono sempre le stesse. Cioè mentre nel primo caso, il dizionario usato come re associativo, le chiavi erano dei dati, dei valori, non sapevo quanti ce ne avessi e non sapevo quali fossero i loro valori, qui sto usando il dizionario in un modo diverso. Le chiavi le decido io, sono fisse, corrispondono alle colonne dei miei dati, ai campi dei miei record. E quindi se ho 10 persone, corrisponderanno a 10 oggetti di tipo dizionario, tutti con le stesse identiche chiavi di tipo stringa, necessariamente di tipo stringa, qui non faccio altre cose. E questa stringa è il nome del campo che voglio usare nel mio codice. E quindi se ho più persone, creerò, tipicamente leggo da un file, cosa sto creando come struttura di dati? Sto creando una lista di persone le quali sono dei dizionari. Quindi spesso quando io ho dei dati strutturati il modo più comodo di leggersi questi dati e memorizzarli è non come lista di liste, ma come lista di dizionari. La lista corrisponde ai vari record, quindi alle varie righe del file, il dizionario corrisponde a una singola riga e i campi del dizionario corrispondono alle singole colonne indicizzate per nome e non per numero. E così non rischiamo di far confusione o di modificarli quando non dovremmo. L'unica cosa, questo è molto simile a quello che in altri linguaggi si chiamano strutture, è un primo passo verso quelle che ci saranno poi gli oggetti, noi non arriveremo a trattare gli oggetti in questo corso, ma questo è un piccolo saldo di quello che può avere un oggetto che ha tante proprietà, l'unica cosa scomoda di usare il dizionario in questo modo è che la chiave deve essere comunque una stringa e quindi mi devo sempre ricordare di mettere le virgolette. Si consuma un po' il tastino delle virgolette a fare queste cose, bisogna ricordarcelo, perché se non mettessi le virgolette lui andrebbe a cercare come chiave il valore di una variabile che si chiama city, perché magari non c'è la variabile, speriamo che non ci sia così un errore, perché se ci fosse va a prendere chissà che cosa. E come lo gestisco una cosa di questo genere? Beh qui c'è un esempio molto semplice, ricordatevi che fai con la nazione e la popolazione, io qui l'ho fatto più facile perché ho messo un separatore esplicito a due punti e non quegli spazi che ci hanno dato qualche problema la volta scorsa, però immaginiamo di voler leggere questa informazione qua e questa è una parte di codice, fino a qua è facile nel senso che significa semplicemente redline split su due punti. Allora questi fields, i campi, che arriva da una split, che cos'è? È una lista di stringa, quindi questo fields qua sarà qualche cosa del tipo, per la prima riga sarà Afghanistan, virgola, quel numero lì. Lo split mi dà una stringa sempre, anche se quello era un numero, quindi fa 3, 2, 7, 3, 8, 3, 7, 6, barra n, chiude virgolette, fine della lista. Ci metto il barra n perché da nessuna parte qua ho fatto uno strip per togliere il barra n, quindi nell'ultima lista, l'ultimo elemento della lista me lo ritrovo. Ok? E questo potremmo già lavorarci, però se vogliamo averlo più comodo, come accesso ai dati, possiamo trasferire questa lista, cioè possiamo costruire al posto di questa lista un dizionario in cui ho un campo che chiamo country che corrisponde al primo elemento della lista, un campo che chiamo population che corrisponde al secondo elemento della lista. Noi avevamo fatto una cosa di questo genere, vi ricordate che avevamo una lista con tutte le nazioni e una lista con tutte le popolazioni, che erano due liste separate e eravamo noi a doverci ricordare, guarda che l'indice 72 della nazione corrisponde all'indice 72 delle popolazioni e dovevamo garantire che fosse sempre così, loro erano dati separati ma eravamo noi che le gestivamo in modo parallelo, speculare. Qui è tutto più chiaro, cioè questo record è un dizionario che contiene la nozione e la popolazione insieme, non c'è rischio che le liste si vadano a disolineare. Questi record qua, questi dizionari, quindi questo non sarà più una lista così, ma questo record sarà un dizionario che contiene come prima chiave country e come valore stringa Afghanistan, virgola, seconda chiave population, due punti, secondo valore questo numero qua sotto forma di numero tra l'altro 32738376, sotto forma di numero perché nel trasferirlo dalla lista dei campi, quello che usciva grezzo dallo split, nel trasferirlo da lì fin dentro il dizionario ho già convertito il tipo di dato, sapevo che doveva essere un numero, è inutile memorizzare una stringa che poi tutte le volte che la uso dovrò convertirla in numero, la converto in numero subito e me la salvo nel dizionario col tipo di dato corretto, in questo caso ho già un intero, chiuso a graffa. Questo dizionariato di due elementi rappresenta una nazione, cioè una riga del file, poi le varie righe del file saranno tanti record che metterò probabilmente in una lista per contenerli tutti, va bene questo qui e alla fine quello che farò probabilmente, ecco l'avevo scritto qua, questi vari record che estraggo li metto in una lista e così avrò una struttura come quella che abbiamo visto prima, una lista di record, una lista di, scusate adesso già lo dico così, è una lista di dizionari usati come record, quindi ad esempio sul nostro file di prima cosa potremmo fare? Ebbè è una cosa un po' noiosa ma non si può fare, io qua non vado a prendere il file di iscritti dell'altra volta se no mi vado a incasinare, ne faccio un altro, record iscritti, ok dove immagino, chiamo proprio le istruzioni minime, di dover leggere questi dati qui, memorizzandoli in una lista di dizionari, in una lista di record. Allora apriamo il file, open del nome, questo qui strano, in modalità lettura, encoding, ok? Dopodichè, faccio un cambiamento ancora un po', magari, dopodichè, vabbè, le leggo una riga per volta, quindi for line in F, allora le leggo una riga per volta, posso usare la read line opposto un semplice for, e line, che cos'è? È una stringa che mi rappresenta una riga intera di questo file, quindi dal 3, di questo 327.000 al barra n finale, compreso. Questo è un campo, è un file separato da virgola, quindi io posso estrarre da questo i vari campi, uguale line.split. Ecco, magari prima di fare split ci tolgo il barra n finale, quindi è un rstrip del barra n, per il quale non troviamo mai troppa simpatia. Quindi se line è una stringa, campi è una lista. E viene fuori così. Viene fuori una lista di questo genere qua. No, ho sbagliato, scusate, lo split lo devo fare non sullo spazio ma sulla virgola. E questo dimostra che quando l'ho scritto 3 righe di codice sono già troppe, è meglio testarlo prima di andare avanti. Meno male che l'ho testato, se no, sono andato avanti col programma e poi non capivo perché non funzionava niente. Semplicemente perché avevo dimenticato il carattere di split tagge, lui prendeva lo spazio come default. Se lo faccio così, ecco, mi piace già un pochino di più. I vari campi separati da virgole, no? Questo è ciò che arriva. Dopodiché questi campi, alcuni mi servono, altri non mi servono. Quindi posso, anziché usare i campi così come sono, crearmi un record che rappresenta la stessa informazione sotto forma di dizionario. Quindi mettiamo una parentesi graffe e il primo campo sarà la matricola, e quindi avrò una chiave matricola, il cui valore cos'è? È l'int del campi di zero. La prima colonna contiene la matricola, allora nel dizionario si scrive il valore della matricola convertito in intero, visto che lui è intero. Il secondo è il cognome, quindi avrò un campo che chiamo cognome, che è uguale a campi di uno. Poi c'è il nome, che corrisponde a campi di due. Poi cosa c'è? La nazionalità. Non me ne frega niente la nazionalità, perché magari non mi serve questo esercizio. Allora non sono obbligato a mettere anche campi di tre. Magari mi serviva il corso di studi, no? Se vogliamo fare l'esercizio simile a quello dell'altra volta, che era il campo 6. Zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Allora estraiamo solamente quello. Quindi io vado a estrarre i campi che mi servono col nome che mi piace. e non sono succube della lista che contiene tutto in un ordine che poi io mi devo ricordare. Immaginiamo che siano questi, vediamo cosa fa questo, che siano questi i campi che mi interessano. Allora, lo stesso programma, allora campi di zero, perché non funziona? Ah, sì. Mi dà errore dicendo campi di zero non è un intero perché tu hai cercato di fare int della stringa matricola perché è la prima riga del file. In questo file qua la prima riga non contiene i dati ma contiene le intestazioni. Allora devo fare in modo che la prima riga venga ignorata. Allora, ho due modi di farlo. Il modo più semplice è fare una read line prima del ciclo for. prima riga uguale a f.readline la leggo la salvo dentro la variabile prima riga che poi non userò mai perché non me ne frega niente. Ma avendola letta il ciclo for successivo partirà dalla riga successiva. Ricordate che il file hanno dentro un cursore che va sempre avanti quando ho letto qualche cosa non lo legge più una seconda volta. questo è il modo più semplice. L'altro modo sarebbe dentro questo ciclo for avere un contatore di righe 0, 1, 2, 3 e se è 0 non leggo niente e passo la riga successiva. Però richiede già due istruzioni. L'incremento del contatore e la if che va a vedere se è la prima riga o no. È più veloce leggerla e buttarla via. Quindi buttarla via la prima riga. Volendo si potrebbe anche scrivere semplicemente così. Chiamo il metodo di readline il quale legge la riga restituisce una stringa e quella stringa non la metto da nessuna parte. Non la salvo da nessuna parte. Non sono obbligato a salvarla. La posso salvare in una variabile che non userò mai più perché non me ne frega niente oppure se non me ne frega niente non vado a usare un nome di variabile. È uguale. Lo lascio così perché mi sembra più chiaro che cosa sta facendo. Ma non è obbligatorio. Se non mi serve quel valore non sono obbligato a memorizzarlo. Quando chiamo una funzione lei restituisce un valore poi sta a me decidere se quel valore lo leggo lo salvo da qualche parte oppure no. Normalmente quando chiamiamo una funzione usiamo il suo valore perché lo scopo di chiamare la funzione è proprio farsi calcolare qualche cosa. Mentre qua lo scopo di readline è quello di far avanzare il cursor del file quindi fare delle operazioni non tanto calcolare dei valori di ritorno. Ok. Allora così non dovrebbe darmi quell'errore e mi stampa le stesse informazioni sotto forma di record di dicionario. Per ora sono tanti dicionari lo leggo lo stampo lo leggo lo stampo eh. Adesso li prendiamo li mettiamo tutti insieme in un'unica lista che possiamo chiamare studenti la creiamo vuota all'inizio e poi ogni volta che leggo un record studenti punto appende di questo record. Quindi se tolgo questa print lascio finire il ciclo for alla fine stampo studenti quindi cosa ho modificato? Ho creato una lista vuota studenti e ogni volta che leggo un record ci metto dentro sotto forma in dizionario lo metto dentro la lista e quindi avrò un po' più brutta da vedere perché va a capo dove vuole aperta quadra lista aperta graffa fino qua chiusa graffa è il primo record e quindi se voglio stampare a questo punto ho tutti i dati io posso scrivere studenti di 7 di matricola ad esempio studenti di 7 è l'ottavo elemento della lista e quindi le informazioni sull'ottavo studente che avevo letto dal file e che a sua volta è un dizionario e quindi a questo dizionario posso accedere per chiave per estrarre il numero di matricola in questo caso è un numero intero mi piace di più perché quando indicizzo la lista l'indicizzo per numero ma la lista è ordinata per posizione il primo secondo il terzo quarto studente mi piace indicizzarla per numero non la vorrei indicizzare in altro modo e poi estrago il campo corrispondente questo è un modo è una struttura dati molto usata la lista di dizionari oppure in questo caso qua potrei usare ma non vi complico la vita adesso un dizionario di dizionari salvando questi dati in un unico mega dizionario usato come array associativo la cui chiave si è la matricola l'avevamo visto prima dove erano sbagliati quando abbiamo fatto questa cosa qui prima scritta in rosso lì sotto è un altro modo di memorizzare tanti studenti che sono i record sulla destra all'interno di un unico mega dizionario oppure un unica mega lista alla fine un contenitore grosso o la lista o il dizionario che li contiene tutti e poi ognuno è rappresentato in un suo piccolo dizionario la differenza è che se li metto in una lista l'accesso lo farò per posizione 0,1,2,3 se li metto in un dizionario l'accesso lo devo fare per chiave e devo trovare un campo chiave in questo caso la matricola è un campo chiave se non ci fosse la matricola non lo potrei fare questo giochino perché il cognome non è univoco il nome non è univoco e quindi non li posso usare come chiave e allora dovrei andare semplicemente per ordine è meglio la lista o meglio il dizionario la domanda è malposta è meglio per questo specifico esercizio usarlo in una lista in unizionario questa è la domanda che devo farmi in funzione di che cosa ci devo fare delle operazioni che ci devo fare sopra qual è il modo migliore di memorizzarlo e molte volte la scelta giusta della struttura dati vi può semplificare l'esercizio anche drasticamente e qui è la struttura una visualizzazione grafica di che cosa stiamo facendo ho una lista di studenti e ciascuno è un dizionario che ha tre chiavi in questo caso non avevo estratto il cds ma solamente nome e cognome e matricola interio string quindi questo è il lavoro che spesso facciamo quando leggiamo dei file se vogliamo il nostro amico modulo csv che aveva già un oggetto reader che è già capace vi ricordate quando aveva una riga di testo a estrarre singoli campi sotto forma di stringhe che era la versione furba della split la split funziona nel caso semplice il reader mi dà invece una lista tendo conto di tutta la sintassi anche più evoluta del csv e qui la stessa cosa me la può fare un oggetto che si chiama dictionary reader dict reader che da solo mi crea già un dizionario analizzando le singole righe del file quindi se proviamo a modificare questo nostro programmino cioè ne faccio un altro che chiamo record iscritti con dict reader record iscritti dict reader punto pi ci copiamo dentro questo programmino e lo andiamo a modificare allora cosa posso fare se ciò che voglio ottenere è questo una lista di dizionari posso usare il modulo csv se voglio è che sono obbligato mi va benissimo farlo così se no è buono sapere che esiste un oggetto reader che posso associare al file csv punto dict reader questa volta non è reader semplicemente ma dict reader associato al file f ricordiamoci che bisognava normalmente mettere newline uguale niente così fine linea se la vede il reader allora a questo punto non andiamo più a leggere il file direttamente ma andiamo a leggere i dati che ci fornisce il reader stesso dimmi perché non sento newline perché me lo dice la documentazione di reader se andiamo a leggere aspetta che prendo un browser se andiamo a leggere la documentazione di questi signori già anche reader mi diceva se il csv se l'argomento della funzione è un file deve essere aperto col parametro newline uguale in una volta praticamente quello che dice è il fine linea lascialo gestire dal reader perché poi magari ci sono dei casi in cui ci sono dei campi per virgolette che qua all'interno contengono un fine linea e il reader lo sa gestire mentre il read line no quindi aggiunge e toglie in modo corretto quindi quando usiamo questi oggetti il reader il suggerimento è quello sempre di aprire il file c'è anche scritto qua vedete un esempio newline uguale stringa vuota il che in qualche modo vuol dire che non possiamo più fare read line allora se è così cosa succede che il mio non vado più a iterare sulle righe del file ma vado a iterare direttamente sul record del reader cioè l'oggetto reader a sua volta contiene già è in grado di è un contenitore che mistra uno per uno le righe del file ok già sotto forma di dizionario quindi non ho più da fare l'analisi della riga non ho più da costruirmi il mio record ma man mano che lo legge lo posso aggiungere e appendere vediamo un attimo cosa fa quindi ho detto guarda tu sei in dizionario e itero con un for sull'oggetto reader il quale ogni volta mi dà già che cosa andiamo a vederlo magari in debug così è più carino da vedere ok sono arrivato qua ho messo un playpoint alla riga 7 quindi ho la variabile reader che è un oggetto di tipo dict reader va bene vado avanti studenti creo la lista vuota che è il contenitore di tutto e poi entro in questo ciclo in cui la variabile di controllo è record che ad ogni interazione mi darà l'elemento successivo proveniente dall'oggetto reader dictionary reader e questo record come è fatto è un dizionario vedete la parente di graffe con questi campi chiave valore come tutti i dizionari del mondo i valori sono i contenuti delle stringhe e già che c'è lui ovviamente le mette tutti la chiave la chiave la prende lui automaticamente dalla prima riga del file vedete che il primo campo ha come chiave matricola e lui ha matricola come chiave del dizionario secondo campo ha un titolo indecente cognome asterisco inserito dal docente e lui come chiave di questo userà cognome inserito dal docente allora se il file avesse dei nomi di colonna un pochino più carini beh come quasi tutti sono giusti codings e credit è un po' lungo ma i nomi di colonna presenti sulla prima riga sono automaticamente utilizzati come chiavi del dizionario quindi se ci va bene usare quelli come chiave non dobbiamo fare nulla vado all'istruzione successiva mi fanno apri in sotto va al record successivo beh il record sarà sempre le stesse chiavi sempre le stesse chiavi i valori sono cambiati no? qui vedete che ad ogni iterazione costruisco tanti piccoli dizionari ma tutti hanno le stesse chiavi e poi le vado a mettere piano piano dentro studenti che via via sta diventando una lista che vado a popolare di tanti dizionari tutti con le stesse chiavi ma con valori diversi ok? quindi il lavoro che fa Dict Reader è quello già di leggere il file csv separare le virgole le virgolette insomma gestire la sintassi del csv separare i campi e creare un dizionario che abbia come chiavi i nomi delle colonne prendendoli dalla prima riga del file se ci va bene questo il codice è minimale nel senso che alla fine ho scritto solamente Dict Reader e ho fatto un for fine il resto l'ha fatto tutto lui se non mi va bene so farlo so farmelo a mano mi metto i nomi di campi che voglio seleziono solo quelli che mi servono non è un problema ok? c'è anche la possibilità eccolo qua su Dict Reader di passargli un parametro così lo leggiamo direttamente alla documentazione ufficiale fill names cioè non ci piacciono i nomi dei campi che ci sono nel file oppure il file non ha dei nomi dei campi sulla prima riga allora quando io creo l'oggetto Dict Reader posso passargli una lista di stringhe dicendo usa questi come nomi dei campi una lista di stringhe fill names è una sequenza c'è una lista se è omesso quindi se non metto i fill names nomi dei campi fill names adottano i valori della prima riga del file saranno usati come nomi dei campi quindi se non lo specifico lui prende i nomi ciò che c'è sulla prima riga lo usa come nomi di campo se lo specifico allora lui associerà chiaramente dovrò mettere i nomi dei campi che piacciono a me nello stesso ordine delle colonne effettive del file ma usare da quel momento in avanti quei nomi lì l'unica differenza è che ovviamente se io gli passo fill names lui assume che la prima riga del file contenga già dei dati e non più i nomi delle colonne quindi se non voglio leggere questa prima riga e ignorarla devo saltarla con il read line come facevo prima quindi anche qua possiamo usare non mi piacciono i nomi dei campi che da lui e allora qua nel reader dirò guarda io voglio il fill names uguale particola virgola cognome virgola nome e li devo mettere tutti in teoria adesso se provassi a farlo adesso secondo me l'errore il mio errore perché ho dimenticato la D sì qui è uscita abbastanza una schifezza perché le prime tre colonne hanno avuto queste chiavi e tutto il resto della riga l'ha messa come dentro una lista con chiave NAN che è una cosa che non si può vedere una chiave NAN perché non gli ho dato tutti i campi dovrei specificarli comunque tutti mi aspettavo un errore invece dal posto di un errore mi ha fatto una schifezza con la particolarità che però purtroppo se andiamo a vedere sono due particolarità una che la prima riga contiene matricola matricola cognome cognome perché ha usato anche la prima riga come se fosse un dato vero e quindi perché qua mi sono dimenticato di cancellarla quindi ricordiamoci sempre la prima riga come la gestiamo contiene i nomi di campi mi vanno bene non faccio niente non contiene i nomi di campi ma dei dati devo specificare dei fill names contiene i nomi di campi ma li voglio cambiare posso specificare dei fill names ma contemporaneamente saltare la prima riga alla fine questi sono i tre casi che posso avere quindi la prima particolarità è pensiamo bene alla prima riga la seconda particolarità è che poiché è un oggetto stupido cioè intelligente ma fa solamente una parte del lavoro matricola che era un numero intero me la memorizza come stringa da dig reader saltano fuori dei dizionari di string mentre invece quando l'ho fatto a mano la matricola me la sono convertita in intero perché magari mi faceva comodo ok quindi questa è solamente una delle tante funzioni di comodo togliamo adesso questo fill names qua perché è incompleto mettiamolo come commento la funzione di comodo è che se si capita di leggere un dizionario magari risparmiamo due istruzioni più che altro risparmiamo di doverci costruire i vari campi soprattutto se ci servono tutti o se non ne ho tanti come ne ho invece in questo file ok io qua mi farei una pausa per poi porci questa domanda perché effettivamente è un problema frequente magari lo mescoliamo con un esercizio quando ho un elenco di nomi come faccio a ordinarli a mettere in ordine tra di loro quindi immaginate questo elenco di studenti li voglio stampare in ordine alfabetico dopo la pausa proviamo a scoprire come grazie